ciao a tutti ragazzi un saluto nel vostro barbaro stravaccato e mi sto godendo la pausa pranzo in questo set che è la mia macchina e schiscietta col cibo terminata o qualche minuto se sentite durante il video il cellulare che suona è il cellulare del lavoro che mi tartassa per ora sta andando bene pausa tranquilla ma sicuramente adesso che ho iniziato a girare in qualche minuto salteranno fuori una notifica dietro l'altra e niente ragazzi così ero qui che mi godevo qualche minuto di calma prima di tornare in ufficio e mi è venuto in mente ma estate fa bello caldo che consigli ci possono essere per giocare a soft air così mi è venuto in mente di provare a buttare giù qualche cosa allora prima cosa che consiglio per l'estate andiamo a vedere che campi si possono scegliere quali sono i migliori il miglior campo sarebbe andare in spiaggia e starsi al mare ma se volete giocare e starvene un po' a svagarvi e sparare pallini uno dopo l'altro il mio consiglio sui campi è quello di orientarvi su due modalità che possono essere magari simili come concetto ma opposto ovvero quando è estate fa un caldo boia e mettersi su tutta quella baracca di equipaggiamento adesso parlerò anche del discorso equipaggiamento tutta quella baracca di equipaggiamento può non essere proprio il top allo stesso modo la cosa migliore è giocare a delle temperature un po' più accettabili quindi quali sono i miei consiglieri la cosa migliore in assoluto per giocare senza distruggersi sarebbe trovare un campo al coperto con la... ecco ragazzi fa caldo pure per il mio telefono che ha deciso di surriscaldarsi vabbè riproviamoci cosa migliore sarebbe un bel campo con l'aria condizionata che quello sarebbe fantastico al coperto ma... cosa migliore sarebbe un bel campo al coperto con l'aria condizionata che quello sarebbe fantastico e il mio telefono decide un po' di surriscaldarsi ma vabbè ma sappiamo bene che è difficile trovare dei campi del genere quindi che altro si può fare? beh campi al coperto garantiscono dei giocati che possono essere brevi quindi si può un minimo ridurre lo sforzo e il problema del CQB però è che non è proprio il massimo giocare in campi ristretti dove i BB possono arrivare forti e quindi di solito conviene giocare un po' più coperti cosa che con l'estate non è proprio il massimo cosa bella però è che le giocate possono essere abbastanza brevi in campi un po' ristretti e si possono fare delle giocate che non prolungano troppo così riuscite a prendervi delle belle pause e idratarvi per bene e questa non è cosa malvagia altra cosa invece buona da fare possono essere delle giocate un po' più lunghe un po' più tipo Milsin come concetto oppure tipo a battaglie campagne magari dei game che hanno degli ampi spazi tra un ingaggio e l'altro e mi viene in mente proprio il boschio che è perfetto perché vi permette innanzitutto di stare se siete in boschi o altro in zone un po' più riparate e poi vi permette di non correre sempre di una maniera o di non avere sempre la tensione a mille ma goderli un pochino anche la natura e qui magari in un bosco è un po' più sopportabile stare coperti senza contare che allora in una zona boschiva con gli ingaggi che aumentano di distanza magari potete anche stare un po' più scoperti potete non avere super forza giacche, mica giacche e tutto il resto ma anche le maniche corde se il BB non vi arriva da un metro di distanza può essere un'opzione per la faccia io vi consiglio di coprirvi sempre e comunque ma per questo ci sono delle belle maschere a rete che permettono di far passare un po' d'aria e quasi sono davvero un toccasana, gli occhiali sono un problema in estate mi si appannano, almeno personalmente mi si appannano un casino e invece con magari un bel occhiale a rete secondo me è una bella opzione tanti non sono convinti, io personalmente uso da tanto gli occhiali a rete anche le maschere con la mesh a protezione degli occhi finora non ho mai avuto alcun problema, mi sono sempre seguito bello e tranquillo e per fortuna è andata tutto bene, fatemi sapere a voi, so che tanti non sono convinti che a rete e a questo punto andiamo avanti con il loadout, pantaloncini corti ve lo sconsiglio assolutamente tanti ho visto giocare con i pantaloncini corti ma un bel paio di pantaloni lunghi tenetevelo sempre, sia che giochiate al coperto che allo scoperto perché se cascate ho un minimo di protezione in più che evite di brasare e sbucciarvi per le gambe sia che si tratti di rovi che di bibì aiuta e insomma diciamo che fa bello comodo anche gli stivali nonostante il caldo non rinunciateci perché specie se giocate all'aperto non si sa mai la vipera e la stronza o magari il sasso o la storta bastarda che può arrivare insomma non lesinate, continuatevi a tenere gli stivali anche se fa bello caldo tanto comunque ci sono degli stivali traspiranti in giro che sono veramente ottimi anche per l'estate e a questo punto parliamo allora di tipi di gioco io consiglio veramente i due estremi o delle giocate brevi in cui riuscite a giocare e divertire poi avete il tempo per una bella pausa oppure appunto come ho detto le giocate molto lunghe sul boschivo dove avete dei tempi morti che siano o i tempi di trasferimento oppure semplicemente venite a difendere sotto un bell'albero e tutto quanto e riuscite un po' a riprendervi come lo d'auti? innanzitutto se giocate in boschivo le due cose fondamentali sono il solito medikit che non mi stancherò mai di dirlo non è quello che vi sarebbe rispondere ma è proprio la mini cassettiera del pronto soccorso con qualche benda o altro che quelle vi servono per forza perché se uno magari in un campo un po' più ampio si fa mai lontano dal campo base quello l'avete avuto sempre a prescindere e poi in estate specialmente tanta 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 acqua pianificate bene se dovete andare a fare dei game lontano dal campo base portatevi tanta acqua dietro per idratarvi o se invece siete lì vicino al campo base fate spesso dei rifornimenti per rifucilarvi dei liquidi che quelli servono sempre sempre cappellino importantissimo se giocate all'esterno perché con tutto l'equipaggiamento aiuta un sacco e serve proteggere la capocchia e a questo punto andiamo a parlare anche di che cosa beh parliamo innanzitutto dell'equipaggiamento da portarvi dietro il mio consiglio è in estate vabbè la replica portatevi la più leggera questo vale sempre ma in estate secondo me ancora di più perché tra caldo e tutto quanto ma poi altra cosa bella col caldo e tutto portatevi dietro finalmente le nostre repliche a gas che funzionano benissimo e già il freddo di sotto le ammazza in estate invece se siete amanti delle repliche a gas tiratele fuori proprio fate l'impossibile per cacciarle fuori perché è veramente veramente stra divertente e soprattutto rendono molto molto bene perché non ho problema del freddo e boh che altro dire ragazzi sto cercando di darvi un po' dei consigli così generici sull'organizzarsi, l'organizzarsi è importante in estate tantissimi sono in vacanza e come si fa per giocare il mio consiglio è quello di rivolgervi come sempre o ai club se avete un gruppo di amici o conoscenze il mio consiglio davvero è quello di fare il gruppo più numeroso possibile per andare a giocare perché così siete sicuri che ci siano i numeri per fare una giocata oppure se premontate al campo o altro assicuratevi bene prima di andare che ci sia il numero minimo di giocatori e cercate come sempre di essere almeno un po' perché tante volte mi è capitato di andare tanti hanno detto no dai oggi andiamo in piscina no oggi facciamo qualcos'altro ed è più complicato organizzare le giocate in estate è brutto da dire ma è così e boh ragazzi questi sono un po' i miei consigli sull'affrontare l'estate da soft gunner può essere complicato in tanti veramente tanti preferiscono andare a fare altro ma è anche normale ragazzi perché in estate ovviamente uno va in piscina con gli amici in spiaggia farsi escursione secondo me il soft air è uno sport che in estate va benissimo il problema grosso è proprio quello del caldo perché se ci si deve portare tutto l'equipaggiamento inizia a diventare bello complicato però si può usare qualche accorgimento io ci sono delle volte che ho addirittura giocato in canottiera e vabbè forse era un po' eccessivo però tutto sommato anche semplicemente con un tattico io vi consiglio quelli aperti perché dovete veramente cercare di avere più superficie compatibilmente con la sicurezza più superficie scoperta possibile certo se andate in CQB ragazzi caldo o non caldo vi consiglio di tenere su quantomeno la giacca con le maniche lunghe perché se no vi fate malissimo ma se siete nel bosco potete stare belli scoperti sulla parte superiore del corpo perché tanto comunque i BB almeno in boschio di solito non vi arrivano contro da una distanza così breve da fare eccessivamente male magari vi rimane un bugnone ma se qualcuno vi fa il culo perché dicono che vi fate mai giocare sotto te potete dire o che è un brufolo o che è una puntuale di zanzara e vabbè proviamo a cavarci così e niente ragazzi i miei consigli in breve sull'affrontare la stagione calda erano questi adesso vi direi che vi faccio un bel salutone e ci vediamo alla prossima e fatemi sapere voi come affrontate l'estate siete quelli che hanno i loro trucchi per giocare senza sfinirsi di sudore oppure siete tra quelli che il trucco chiaro è quello di andare in vacanza e al mare sono curioso di sentire le vostre ragazzi e adesso me ne torno al lavoro ciao ciao